E' l'evento professionale di riferimento per il turismo attivo ed esperienziale dell'intero Abruzzo e promette ancora una volta di stupire anche grazie a numeri importanti che a breve il sottosegretario con delega al turismo Daniele Damario renderà pubblici. Abruzzo attrattivo è un momento di confronto fra le istituzioni, fra le camere di commercio e gli operatori. Gli operatori di un settore che quando tireremo fuori i doti fra qualche giorno dimostrano che l'Abruzzo si candida sicuramente ad essere una delle mete più importanti per quanto riguarda il turismo legato alle esperienze, legato al nostro territorio interno e quindi sicuramente degno di attenzione. Abruzzo attrattivo compie 10 anni, cambia location e cresce ancora nella forma e nei contenuti il 13 e il 14 novembre al Palabecci di Pescara e il 3 dicembre al Palazzetto dei Nobili di L'Aquila. L'evento è stato presentato questa mattina a Pescara. Crediamo fortemente nella formazione anche di pacchetti turistici sempre più innovativi perché ci aiuteranno a rendere il nostro Abruzzo attrattivo sempre più e questa è la sfida non solo della nostra regione, di tutti gli enti e ovviamente anche degli operatori. Un appuntamento che coinvolgerà centinaia di operatori da tutta la regione che in tre giorni e due tappe si confronteranno con personalità dello scenario nazionale per proporre, discutere, apprendere come risolvere un problema e le nuove tecniche di comunicazione, fare il punto della situazione e fissare gli obiettivi del settore più sorprendente del turismo abruzzese. È una decima edizione ricchissima di contenuti e soprattutto di novità. Abbiamo delle masterclass dedicate alla comunicazione trasversale, abbiamo degli short meeting con tour operator e OTA nazionali e internazionali ma soprattutto l'affermazione di quello che Confesercenti Abruzzo e Federpate hanno lanciato ormai da dieci anni. Turismo attivo e esperienziale quando nessuno ci credeva noi possiamo rivendicare questo primato. Grazie a tutti.